I guanti invece che uso in sosta oppure nei momenti in cui sono fermo sono questi, le moffole, sono veramente il guanto più caldo che possiate utilizzare perché chiudono tutta la mano e sembrate degli alieni ma sono super caldi. E invece in questo caso è veramente il caso secondo me di spendere due soldi per questi guanti che comunque durano parecchio, ci maneggiamo un po' con le corde perché ci facciamo un po' sicura ma fondamentalmente non si rovinano tanto e qui è il caso di investire un po' di soldi perché in sosta si rimane a lungo, molto spesso fermi e avere qualcosa che ci scalda bene le mani è un'altra idea.